ciao fragoline nuovo video e guardate cosa ho ripreso allora ho ripreso i oro però questa volta ho preso il gattino perché l'altra volta era il cane ho preso il gattino dato che mi piace questo gratte vinci no allora l'ho voluto ricomprare questo costa 3 euro e questo 2 sempre 5 euro invece il miliardario l'ho ripreso perché l'altra volta avevamo vinto per cui ho detto proviamo forse sarò ancora fortunata e vinco qualcosina non lo so comunque ho preso questi due e allora gratte vinci nuovi ci sono ma partono dai 5 euro barra 10 io preferirei appunto spendere 5 euro ma prenderne due o spendere 10 euro e prenderne due di gratte vinci che prendere uno da 5 o uno da 10 che so che non vinci proprio niente almeno che hai un culo madonna comunque prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e seguirmi su instagram io vi aspetto anche lì perché ci sono sempre spoiler e forse anche novità se prenderò altri gratte vinci a settembre o in ottobre detto questo andiamo a vedere se questa volta vinciamo e buona visione allora io direi di iniziare da questo che è più piccolo e poi facciamo cuccioli d'oro vediamo se questa volta è buono allora di zoom così lo vedete meglio iniziamo da qui qui abbiamo una moneta poi abbiamo un lingotto e un ferro ok allora qua è perdente perché vediamo andando in giù se vinciamo abbiamo un un lingotto per cui niente e una stella poi andiamo di qua vediamo stella sotto ferro direi che ci andrà male qua abbiamo un ferro e proviamo il bonus vediamo il bonus abbiamo una moneta allora niente allora per così non abbiamo vinto niente dritto non abbiamo vinto niente diagonale verticale direi no che è perdente ovviamente adesso vediamo i premi perché sono sempre curiosa 10 euro 100 beh però c'era 10 euro potevamo vincere anche 10 euro e invece c'è andata male questa volta sul gratte vinci passiamo all'altro allora iniziamo partenza dice di andare a destra destra un'altra volta andiamo sotto sinistra sotto sinistra ho la sensazione che non vinciamo e sopra infatti e sinistra ok direi che qui non ci siamo proviamo a vedere i simboli qui abbiamo la cuccia abbiamo un albero abbiamo una panchina una coppa io gratto bene perché sennò poi non si capisce niente poi un cuore un fiore credo che neanche con i simboli cibo collare gabbietta gabbietta coccarda e per finire abbiamo un sapone ok proviamo a vedere il simbolo sotto se 500 magari lo vedete ok praticamente un cuscino però il cuscino noi non ce l'abbiamo per cui questa volta c'è andata male ovviamente qua abbiamo sotto 1200 500 e per finire 50 ok direi che anche questa è perdente fatemi sapere se vi piace lo stesso che io gratto per sapere i diciamo i premi se se vi piace che io gratto lo stesso i premi secondo me è bello perché così o meno tu sai se i premi sono alti o bassi e vedi io lo noto dai premi se i premi sono altissimi giustamente non hai così tanta fortuna di vincere invece se sono bassi che hanno che ne so 5 euro 10 euro 1 euro barra 2 hai la possibilità di vincere comunque fatemelo sapere comunque fatemelo sapere allora vorrei prendermi vorrei prendermi di più di questi fare un video ma prendermi di più fatemi sapere se vi piace questa idea ovviamente se ne parlerà a ottobre perché il mese di agosto ho già preso tutti i grattivinci niente questi sono perdenti peccato perché almeno un euro o qualcosina era meglio ma vabbè sono 5 euro anche questi andati via ok comunque dato che c'è io ripeto mi piace di più far vedere anche i prezzi sotto nei grattivinci perché così almeno sai quanto potevi vincere in poche parole fatemi sapere se volete che continuo così a grattare anche i prezzi sotto il premio oppure preferite solo diciamo il solo quando praticamente io gratto niente anche questo video è finito spero che vi sia piaciuto detto questo noi ci vediamo al prossimo video e io vi saluto qua ciao ciao